Grazie a tutti. In cui è ritratta insieme a sua mamma Anna e racconta un problema... Tra l'altro è quasi una cosa inedita perché è stata raccontata ma mai comunicata sui soffi. È molto difficile da raccontare perché riguarda problemi di salute e di vissuto della mamma del presidente di Fratelli d'Italia. Questa è Anna, la mia mamma, la persona a quale devo tutto soffre di obesità da quando più giovane ebbe una depressione perché era rimasta senza lavoro a crescere solo due figlie. A Monte c'è un problema di metabolismo montolento che ha portato anche me a essere obesa da ragazza come ho avuto modo di raccontare in passato. È un ribaltamento rapidissimo che i social consentono nella comunicazione. E qui siamo passati dal famoso post sulla devianza in cui l'obesità, e sapete che mi sono sentito particolarmente toccato, era una delle cause di devianza, addirittura, non dico all'apologia, però all'assunzione biografica dell'obesità come un tratto politico-sociologico. Io voglio fare un'unica domanda a tutti e tre i nostri ospiti, per chiedervi questo. Abbiamo parlato dei social professionali televisivi di Berlusconi, di quelli che spesso cedono al lato più domestico-privato, soprattutto in passato, di Renzi e di Salvini, non ne parliamo di tutti gli altri. Questa commistione tra polemica politica del momento e un privato e un vissuto, anche molto sensibili, ci sono dati sanitari, ci sono dettagli sensibili sulla mamma, quanto bucano? C'è da dire che questo qui è un classico post di crisis management, ovvero la strategia di comunicazione che si adotta nel momento in cui si è al centro di una crisi mediatica o di un trend per cui si viene attaccati e per cui in questo caso qui si può lasciar cadere l'argomento e cercare di spostare l'attenzione del pubblico su altri temi oppure continuare ad insistere, cavalcarlo e provare a ribaltare il messaggio. Probabilmente per un certo target, passatemi il termine, più populista, questo messaggio in qualche modo passa e anche in una chiave positiva, in una chiave un po' di vittimismo strappalacrime. Da un altro punto di vista invece viene visto come un tentare di insistere su un argomento dove forse avrebbe fatto bene a lasciar cadere, tagliare e passare ad altro. Francesco, io ipotizzo una spiegazione diversa, ovviamente qualche voce, qualcosa, cioè che uno di quei post fosse stato forse fatto da uno staff seguendo una direttiva, e che questa sia la strambata di correzione in cui c'è, tra virgolette, il fattore umano. No, questa è la mia vita, ecco cosa penso, qui c'è il sangue di mia madre, ma qui c'è anche la biografia. Cioè la Meloni ha costruito un libro che addirittura è diventato un best seller parlando del rapporto sofferto col padre, qui c'è il collegamento, quel divorzio, quell'abbandono hanno segnato anche la vita di sua madre. Quindi è proprio una cosa molto forte, ed è incredibile che accada sui social e non in una comunicazione più meditata. No, no, sono assolutamente d'accordo con te. Lì c'è stato effettivamente un errore nel citare, nel mettere in serena nelle vedevianze parole come obesità e come anoressia, tant'è che il post è stato corretto, poi è cancellato. E depressione anche. E depressione anche, quindi evidentemente c'è stato un errore da parte dello staff, ma un errore molto grosso che poi ha causato quello che ha causato. Però ha fatto accendere un altro lato della Meloni, che è quello che dici tu, che non è solo riferito a una strategia di crisis management che c'è evidentemente, non nascondiamoci dite un dito, ma credo anche che, come dici tu, ci sia un aspetto umano molto forte. Cioè la Meloni abbia calcato su questo lato empattico, una sorta di apertura al vissuto che aveva già dimostrato in effetti nel libro e aveva dimostrato solo con le persone a lei cari, lei più vicina. Tenete conto che proprio per questa sua timidezza, perché Giorgio Meloni in fondo è una persona timida, seppur estremamente risoluta, questa sua timidezza l'ha sempre chiuso in un orto concluso di sentimenti. In questo caso si è proprio aperta ed è una novità assoluta dal punto di vista sia della comunicazione e del marketing, ma sia soprattutto dell'empatia verso i propri elettori, che già esistono e quelli che verranno. Professoressa Cosenza, il fatto che questa apertura inedita, sincera, non abbiamo motivo di dubitarne, benché inserita in una polemica, sia però inserita in una polemica politica, non rischia di farla apparire artefatta, funzionale, strumentale e quindi di inclinare quel rapporto di empatia a cui faceva riferimento Specchia con i suoi elettori? Sì, siamo non solo come dicevano loro prima in gestione della crisi, crisis management, ma anche in piena personalizzazione, non è la prima, non è l'ultima uscita di Giorgio Meloni, lo fanno anche gli altri, per primo Berlusconi, cioè ormai è tanti anni che si parla di personalizzazione della politica e il rischio che lei diceva è esattamente questo, dipende molto da cosa farà come mosse prossime, la vedo in reazione a quell'errore sulle devianze, ma potrebbe essere anche un tentativo in questo momento di ammorbidire la sua comunicazione, visto che effettivamente anche l'uscita sul vittimista, il sentirsi al centro di tanti fuochi, insomma era un vittimismo aggressivo, è stata piuttosto aggressiva recentemente e quindi la famiglia, la persona, la malattia, l'obesità, ci sono tante persone obese in Italia, quindi c'è un ravvedimento su quel posto sbagliato, ma potrebbe essere anche un ammorbidimento, vediamo cosa succederà, quindi il rischio che lei individuava è reale, è uno dei rischi della personalizzazione, se si insiste troppo non è autentica, suona falsa, Marianna, è la prima foto di tutta la famiglia e appare anche la sorella insieme, è veramente una grande epifania, è uno spartiacque nella comunicazione sicuramente.